Il mondo della ristorazione e della ricettività in grave sofferenza cremona a causa della carenza di personale qualificato. Mancano camerieri e i cuochi sono introvabili e in vista della bella stagione il problema diventa sempre più serio. Il reddito di cittadinanza che ha in qualche modo allontanato anche i volonterosi dal mondo del lavoro, soprattutto lavori che richiedono un sacrificio in termini di orario. Anche la retribuzione, il cuno fiscale che era talmente alto per cui non si poteva garantire un adeguato compenso per uno sforzo così. E poi la parte della formazione. I voucher, il fatto che il governo Meloni li abbiano introdotti, ci fa ben sperare per almeno questi tre mesi estivi dove le richieste sono elevate. Non si può prendere chiunque e pagarlo con i voucher. A monte deve esserci una formazione adeguata. Il grido d'allarme è scritto nero su bianco, appeso sulle vetrine o sulle pagine dei social e c'è chi sta pensando di non aprire l'estivo se non soluzioni più drastiche. La ricerca di personale è quasi impossibile. A parte che noi abbiamo fatto più volte segnalazioni anche sui social, eccetera, che stiamo cercando personale ma non si è mai presentato nessuno. I giovani non sappiamo dove sono, quelli che finiscono le scuole men che meno. Non credo che sia solo una questione di stipendi perché con i dipendenti si può sempre ragionare in base a quello che poi ovviamente vogliono e desiderano e comunque sono anche capaci di fare. La meritocrazia esiste. Sto valutando di non mettere tavolini all'aperto proprio perché non ho personale. O chiudo senza personale per me sarà quasi impossibile poi poter tenere aperto sette giorni su sette. Per favorire l'incontro tra domande e offerte a ConfCommercio ha ideato un Talent Day in programma il prossimo 14 maggio. Ci sarà un giorno proprio in cui metteremo sul piatto le offerte, le richieste che il mercato del pubblico esercizio richiede a tutti i ragazzi della provincia di Cremona che vogliono in qualche modo orientarsi per un giorno su dove possono andare a lavorare. Un'opportunità per l'estate.